Buonasera, ben trovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. Di nuovo emergenza neve in Abruzzo. L'appello delle autorità è quello di non uscire di casa se non strettamente necessario il primo servizio. Rispettate in pieno le previsioni meteo degli ultimi bollettini della protezione civile in Abruzzo è tornata la neve. I fiocchi hanno ricominciato a cadere nella notte su tutta la fascia costiera nell'entroterra già a basse quote. A Pescara alle 14 c'erano già 20 cm di neve. L'aeroporto Liberi resterà chiuso almeno fino alle 6 di domani mattina. Lo hanno deciso i vertici della saga dopo un breve consulto con l'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra. Sulle piste di atterraggio e decollo i tecnici hanno misurato 20 cm di neve, condizione che rappresenta un oggettivo pericolo per il sistema di mobilità aerea dello scalo abruzzese. Le autostrade sono aperte, il trasporto pubblico su gomme è regolarmente garantito, almeno sulle linee principali e più importanti, dichiara Morra dalla sala del centro funzionale della protezione civile all'Aquila. Il divieto di transito in autostrada, aggiunge, riguarda solo i mezzi pesanti di trasporto merci e non il trasporto passeggeri e soccorso. Ci sono state chiusure temporanee di alcuni caselli autostradali. La A24 e la A25 sono state chiuse al traffico per consentire operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale. Ai caselli di Pescina, Celano e Magliano dei Marsi si entra solo a turni di 15 auto e soltanto scortati dalla polizia stradale, quindi in regime di codice rosso. Le situazioni più critiche si registrano nel Terramano, nel Vastese e nella Valle Roveto, dove si concentra il maggior numero di volontari impegnati sul campo. In totale, su tutto il territorio regionale, stanno operando 300 volontari della protezione civile e 60 associazioni. Anche il sistema della protezione civile nazionale ha fatto confluire in Abruzzo diverse squadre operative, 39 delle quali sono state concentrate all'interporto di Avezzano, in modo da garantire il soccorso necessario alla Marsica e alla Valle Roveto. Preoccupazioni e allarme giungono anche dagli allevatori rimasti senza foraggio per gli animali. Gli uffici della Direzione Politica Agricole si sono attivati immediatamente, mettendosi in contatto sia con i rappresentanti delle organizzazioni professionali, sia con quelli dell'Ara. Grazie a queste proficue sinergie, ha detto l'assessore dell'agricoltura Mauro Febbo, si stanno individuando le aziende abruzzesi in grado di fornire il foraggio e al tempo stesso ci teniamo costantemente in contatto con la protezione civile. E da stasera è turni anche per l'acqua potabile a città Sant'Angelo a causa del freddo. Di notte gela e saltano i contatori, dichiara il sindaco Florimbi, che invita i cittadini a coprire i contatori con la lana. Manca il sale, i tir che devono trasportarlo sono bloccati dalla neve, questo denuncia il Cospa Abruzzo. Il comitato spontaneo allevatori agricoltori, in particolare i carichi di sale provenienti dalle saline pugliesi di Margherita di Savoia, secondo informazioni raccolte dall'associazione risultano fermi a Foggia, dove le prefetture si attengono alle prevenzioni emanate dal Ministero degli Interni e sullo stop ai mezzi pesanti. I comuni montani, segnala il Cospa in una nota, sono sprovvisti di sale e i fornitori non hanno più niente in magazzino. Si chiede dunque un coordinamento tra le prefetture affinché venga fatto un dispaccio ben preciso alle forze dell'ordine per i mezzi che devono raggiungere le mete disagiate. Nel Chietino, a Chietiscalo, nell'area metropolitana ci sono circa 50 cm di neve, ma vediamo com'era la situazione in mattinata. Ed è critica la situazione anche qui a Chietiscalo, come vedete la neve continua ad imbiancare le strade, pochissimi i mezzi in circolazione, quei pochi che ancora circolano sono ovviamente tutti muniti di catene, pochissima la gente che si muove, ovviamente il monito di restare chiusi in casa è servito perché la maggior parte delle persone preferisce rimanere al sicuro al coperto. Notevoli disagi anche per quanto riguarda i trasporti pubblici, noi siamo alla stazione ferroviaria di Chietiscalo, la banchina come vedete è del tutto sgombra, del tutto vuota, nessuno attende un treno e la neve ricopre di uno spesso strato anche i binari della ferrovia. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Complicata la situazione lungo le autostrade, pochissimi mezzi in circolazione, la neve ricopre di uno spesso strato tutte le nostre autostrade siamo insieme al sovrintendente capo della questura di Chieti, Baroncini ci conferma che le modalità sono severe anche per il transito Bene, al momento noi abbiamo solo il blocco dei tir e dei camion, quindi sia i pullman, sia i mezzi leggeri, cosiddetti leggeri, sotto i 75 quintali se comunque muniti di catene, ruote, cioè gomme termiche possono transitare, quindi posso dire che tragica non è la situazione c'è neve ma si transita, se attrezzati i mezzi leggeri possono transitare al momento tranquillamente In questa emergenza tutte le forze dell'ordine stanno collaborando appunto per la salvaguarda dell'ordine pubblico Sicuramente abbiamo tutte le forze dell'ordine sul campo, noi come questura Chieti almeno siamo qui al casello autostradale poi ci sono altri che stanno dando assistenza a vari veicoli fermi per vari motivi I tir comunque li stiamo bloccando e dirottando nelle zone idonee, cioè piazzale, stadio, dove possono restare tranquillamente in attesa fino a normalizzarsi la situazione, perché i mezzi pesanti possono bloccare la circolazione cioè autovetture, mezzi leggeri, se attrezzati camminano tranquillamente, ma un tir di traverso creerebbe dei seri problemi In giornata la situazione si è fatta più critica nella viabilità a Pescara in tutta l'area metropolitana a causa dell'intensa nevicata che dalla scorsa notte sta interessando la zona La neve in molti casi ha superato il mezzo metro di altezza, rendendo impraticabili la maggior parte delle strade anche quelle principali, dalla sala operativa della Polizia Municipale del Capoluogo Adriatico parlano di una situazione tragica, soprattutto ai colli, dove alcune zone possono essere raggiunte solo dai mezzi della protezione civile e non dagli spazzaneve A Lanciano è stato attivato il centro operativo comunale per l'emergenza neve, siamo andati a vedere La neve è tornata a cadere anche a Lanciano, dove è stato attivato il centro operativo comunale per la gestione dell'emergenza neve La struttura è stata attivata con un'ordinanza del sindaco Mario Pupillo Abbiamo allestito il centro, ha detto, per assicurare nell'ambito del territorio comunale il monitoraggio di tutta la fase di allerta delle varie situazioni di criticità e per l'attuazione degli interventi successivi di assistenza alla popolazione e ripristino della funzionalità della viabilità e delle altre infrastrutture L'ufficio sarà di supporto al sindaco nella gestione dell'emergenza e potrà contare su cinque figure tecniche coordinate dal responsabile della protezione civile di Lanciano Fausto Boccabella A disposizione ci sono 25 mezzi tra spazzaneve e spargisale Dopo la tregua di giovedì, gli uomini sono tornati al lavoro per affrontare la nuova ondata di maltempo che ci ha trovati pronti all'azione, ha dichiarato l'assessore lavori pubblici di Naccio I mezzi sono tutti operativi e non mancano le scorte di sale nelle prossime ore infatti il rischio è quello del ghiaccio Fino adesso abbiamo riunito tutti i collaboratori, gli operatori, i volontari delle varie associazioni collegate alla protezione civile C'è un'allerta meteo che chiaramente ci ha segnalato attraverso la prefettura il peggioramento della situazione climatica quindi l'abbassamento delle temperature nelle prossime ore comunque i nostri mezzi già stanno operando lungo le strade circa 28-30 mezzi tra quelli del comune e quelli che hanno aderito al piano neve quindi diciamo ognuno con compiti precisi tra cui in questo momento e soprattutto distribuire il sale lungo tutte le strade principali perché per questa notte si potranno verificare avere fenomeni di ghiaccio Fino ad oggi, ha aggiunto Di Naccio, l'emergenza neve costata alle casse comunali 123.000 euro a supportare il lavoro dell'amministrazione comunale anche i volontari delle varie associazioni presenti sul territorio tra gli interventi eseguiti, l'assistenza agli anziani soli l'accompagnamento in ospedale per visite e medicine il soccorso agli animali rimasti senza cibo A causa dell'intensa nevicata e dei relativi problemi di trasporto la Sevel di Atessa ha comunicato a lavoratori e sindacati il fermo produttivo per l'ultimo turno di oggi quello notturno che va dalle 22 alle 6 di domani sabato la produzione dovrebbe riprendere lunedì chiuse anche le altre fabbriche della Val di Sangro Il bollettino meteo delle prossime ore prevede un peggioramento soprattutto nel Terramano e nella Pescarese La nostra penisola sta attraversando un'intensa fase di maltempo con pochi precedenti nella storia recente Abruzzo meteo nel bollettino delle ore 16 segnala emergenza neve soprattutto nel Terramano e Pescarese Le nevicate continueranno a gravare sull'intero territorio regionale Nelle prossime ore diffuse da abbondanti precipitazioni interesseranno il Chietino ma soprattutto ancora il territorio delle province di Terramo e Pescara con notevoli accumuli di neve al suolo anche lungo la costa Dagli ultimi aggiornamenti emerge come la situazione attuale possa protrarsi fino a notte Domani è probabile una graduale attenuazione delle precipitazioni ma potrebbe trattarsi solamente di un temporaneo miglioramento Ci saranno nuove nevicate nella giornata di domenica anche se probabilmente meno intense di quelle in atto in queste ore Vietato fare giochi di qualsiasi tipo sulla neve e con la neve nelle piazze, nelle strade e marciapiedi compresi lo stabilisce ad Atessa un'ordinanza del sindaco Nicola Cicchitti convinto che i giochi come lo snowboard praticato in piazza da alcuni ragazzi possano arrecare intralcio o disturbo e costituire pericolo per se stessi o per gli altri Un successo straordinario per la richiesta emessa tramite avviso pubblico nel pomeriggio dal comune di San Giovanni Tiatino di 20 disoccupati pronti ad aiutare le operazioni di sgombero della neve in tutto il territorio comunale In sole due ore sono state molte decine le domande pervenute per questo motivo il comune ha deciso di chiudere la raccolta delle disponibilità per iniziare ad individuare gli idonei al lavoro e avviarli subito all'attività di supporto dei mezzi comunali che stanno operando da questa mattina E restiamo a San Giovanni Tiatino perché sono arrivate 30.000 domande per 200 posti di lavoro all'IKEA 30.446 domande ricevute in 20 giorni per appena 200 posti disponibili Crisi e fame di lavoro si fanno sentire significativi i numeri del bollettino di IKEA che aprirà in estate un punto vendita a San Giovanni Tiatino La raccolta dei curricula provenienti non solo dal territorio abruzzese ma anche da tutta Italia si è conclusa l'8 febbraio Da subito è iniziato lo screening alla ricerca di quelle competenze che rispondano alle necessità professionali di varie funzioni servizi alla clientela, vendita, logistica e servizi di ristorazione Successivamente, rende noto l'azienda svedese le persone i cui curricula verranno ritenuti in linea con le posizioni ricercate saranno contattate per un primo colloquio telefonico A marzo i candidati ritenuti idonei saranno convocati per un primo colloquio di gruppo e in seguito per colloqui individuali L'intento di IKEA, si legge inoltre nella nota aziendale è anche quello di investire nella formazione dei neoassunti per valorizzare lo sviluppo della nuova squadra di collaboratori abruzzesi che a loro volta porteranno il proprio valore aggiunto in IKEA soprattutto in termini di conoscenza del territorio e dei gusti dei potenziali clienti Voltiamo temporaneamente pagina Ci occupiamo di gastronomia con il prossimo servizio Gusto, costo e facile realizzazione sono i criteri utilizzati per il viaggio cost to cost alla ricerca di gustose ricette a base di pesce Vediamo Un interessante libro sui brodetti e le zuppe di pesce delle tante interpretazioni dei più schietti, genuini cuochi di mare di tutta la penisola Un libro scritto da un autore con la passione del mare e dell'agricoltura Peppino Lettere, tanti anni fa assessore regionale all'agricoltura Il suo libro Brodetti e zuppe di pesce è stato pubblicato nella collana Orizzonti della Fondazione Pescara Abruzzo Ne ascoltiamo il presidente Nicola Mattoscio che del libro ha anche curato la prefazione Ci sono tante memorie, tante conoscenze, tanti sapieri che in questo libro sono ben riflessi Alla presentazione del libro nella sala convegni della Fondazione Pescara Abruzzo hanno partecipato il presidente regionale Slow Food, Raffaele Cavallo ed il coordinatore regionale dell'Accademia Nazionale della Cucina, Mimmo D'Alessio Un libro interessante, io l'ho detto anche nel mio intervento soprattutto interessante nella prima parte nella parte propedeutica per l'acquisto del pesce per come si pulisce il pesce come ci si deve approcciare col pesce e poi le ricette sono tantissime Ed ora ascoltiamo l'autore di Brodetti e Zuppe di Pesce Peppino Lettere, prodigo di consigli sulle tante varietà di pesce sui criteri da seguire per un buon acquisto le ricette naturalmente ma non solo In realtà il libro, oltre all'utilizzo dei pesci minori, cosiddetti minori e poveri per il costo ma che sono tanto buoni per la salute spinge alla collaborazione fra pesce e agricoltura l'utilizzo di verdure che possono servire per un'alimentazione corretta soprattutto per i giovani oltre che per noi persone leggermente anziane o forse molto anziane ma non solo questo spinge per esempio nell'uso costante dell'olio extravergine d'oliva che è una nostra ricchezza ma anche rappresenta qualcosa di elite che noi abbiamo e che non possiamo, dobbiamo trascurare Siamo allo sport la neve ferma anche il calcio il prefetto di Pescara ha firmato l'ordinanza di rinvio data da destinarsi della gara di serie B Pescara-Juve Stabia in programma domani alle 15 allo stadio Adriatico la decisione è stata presa subito dopo il sopralluogo di questa mattina da parte del GOS è il secondo rinvio consecutivo per il Pescara ha fermato la settimana scorsa sempre per neve quando salto alla gara con la regina sempre a causa della neve in serie B è stata rinviata anche Modena-Padova questa sera non ci sarà il consueto appuntamento in diretta con Amuso Duro ma vi proporremo la replica della puntata del 26 gennaio e sempre per quanto riguarda il calcio sono state rinviate tutte le gare di campionati regionali in calendario domani sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 febbraio era questa l'ultima notizia grazie per essere rimasti con noi arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti